So benissimo che sono fuori ogni tempo limite, ma dovevo capire bene alcune cose, dovevo capire se questo oggetto poteva veramente fare al caso mio, in ambito lavorativo, quando l'ho utilizzato, quando non l'ho utilizzato. Ragazzi, iPad, iPad, dite come, pronunciatelo come volete, è una macchina da guerra, è veramente una macchina che vi permette di fare tutto, ma dovete ben capirla. Ed è per questo che ho atteso tanto tempo, dovevo trovare la mia strada, dovevo trovare il mio percorso su questo oggetto, su questo oggetto di pura tecnologia. iPad può veramente farvi lasciare a casa il computer, il portatile e nello specifico forse è proprio vero che il prossimo tuo computer non sarà un computer. Lo sapete e non l'ho mai nascosto, per lavoro da anni ho scelto di utilizzare macchine Apple, quindi utilizzo da sempre MacBook per quanto riguarda l'editing dei miei video. Ho iniziato questo canale YouTube grazie anche a un MacBook Pro da 13 pollici, poi con il passare del tempo Apple Watch al polso, nonché iPhone 11 Pro Max che è stato il mio iPhone quest'anno, grazie anche a Trend Device. Trend Device è un sito che vende ricondizionati, iPad arriva da loro, l'iPhone arriva da loro, avete un codice sconto, WERS 15 per risparmiare 15 euro su una spesa di 200 euro, non vi sto dicendo comprate per forza da loro, vi sto dicendo che se volete risparmiare è un sito affidabile, poi scegliete voi dove acquistare i vostri prodotti. Non mi sono preparato niente, quindi non vi leggerò un testo, non vi leggerò una recensione, ma vi racconterò veramente cos'è stato e cos'è iPad per me. È una macchina che all'inizio non ho ben capito, non ho ben capito perché, perché la mia mentalità a 33 anni è quella di utilizzare un computer, è quella di mettermi sulla scrivania, di scrivere una mail, di montare un video con Final Cut oppure Premiere, di editare una foto con Photoshop, di fare il mio lavoro, quindi di essere produttivo ma con un computer davanti. Quindi per i primi due mesi iPad come l'ho utilizzato? L'ho utilizzato solamente per multime idealità, quindi video su YouTube, Netflix, Twitch, leggevo qualche post su Facebook, leggevo qualche tweet su Twitter e poco altro. Vi posso assicurare che se la vostra mentalità è quella di utilizzare un tablet per queste specifiche, comprate altro. Compratevi un tablet da 100 euro cinese, compratevi quei tablet che vendono in grande distribuzione, in quegli scatoloni enormi, ecco, risparmiate i vostri soldi. È arrivato il lockdown, quindi ho avuto più tempo, ho avuto più tempo e ho voluto mettere da parte il MacBook, quindi lasciare per un momento riposare la macchina da lavoro perché considerateci molto 3-4 video al giorno, email, tutto passa da quel computer, ho voluto lasciarlo riposare. E sono passato ad iPad, quindi ho comprato una tastiera, ho comprato una custodia, ho scelto quella Logitech che ho già recensito sul canale YouTube di EvoSmart Plus, magari riprendete il video, senza trackpad ma con la tastiera. È una custodia che costa circa 120-130 euro, ora non mi ricordo bene quanto l'ho pagata, rispetto a quella Apple ho risparmiato tanti soldi. Dopo mesi, guerze, compreresti la custodia Apple tutta la vita, quindi è un'ottima custodia quella Logitech che per carità, ma l'ultima custodia di casa Apple è qualcosa di fantastico, è qualcosa che ti cambia veramente la produttività e ti fa essere molto molto rapido, però costa più di 300 euro ed è uno sbotto, veramente troppo, quindi mi accontento della custodia che ho. Vi abbiamo anche già recensito l'Apple Pencil, la consiglio solo ed esclusivamente se fate grafica. Se come me non fate grafica, potete anche farne a meno, oppure comprate, come nel mio caso, la versione non originale, circa 20 euro su Amazon, se volete firmare dei documenti al volo, se avete bisogno di far questo, allora sì. Se invece siete degli utilizzatori di grafica e design, andate sulla Apple Pencil originale. All'inizio iPad non era nient'altro che un iPhone gigante, parliamoci chiaro. iPad invece oggi, quindi nel 2020, grazie al nuovo sistema operativo di casa Apple, è qualcosa di molto di più, assolutamente qualcosa di rivoluzionario. Con iPad io ragazzi monto video in 4K a 60 frame oppure a 30 frame, senza il minimo delay, con color correction applicata, qualcosa che il mio MacBook da 3.500 euro si sogna. Non c'è un surriscaldamento della macchina, non ci sono ventole che partano, la batteria mi permette di montare 3 video completi al 100%, bisogna adattarsi, quindi bisogna lasciare da parte il computer e bisogna lavorare almeno un mese solo ed esclusivamente con iPad. Il mio modello è il 2018, quindi non è neanche l'ultimo. Ho trovato Affinity Photo per quanto riguarda una copia di Photoshop e utilizzo Lightroom. Queste sono le mie tre applicazioni basilari. Poi ovviamente ho scaricato tutta la suite per quanto riguarda Office, documenti. Vi potete ricostruire il vostro computer uno a uno all'interno di iPad. Alla vostra domanda, Guerze, ma posso fare le stesse cose con un tablet di Samsung, di Huawei e quant'altro? No. Ad oggi, secondo me, iPad è ancora una spanna sopra la concorrenza, anche rispetto agli ultimi modelli. Con iPad si lavora, con iPad si possono fare cose che attualmente gli altri competitor si sognano. A chi consiglia un iPad? A tutte le persone che vogliono lavorare, vogliono prendere appunti, vogliono essere produttivi dagli studenti. Ci sono veramente tanti prezzi oramai per portarsi a casa un iPad. Il mio piccolo consiglio è questo. Se come me volete utilizzare un iPad al posto di un computer, andate sul 12.9 pollici, perché l'11 pollici è comodo, è molto portatile, ma vi posso assicurare che il 12 pollici vi fa tutta la differenza del caso se come me editate i video e se come me utilizzate molto programmi di grafica per il tocco fotografico, per avere due applicazioni a display, vi consiglio appunto il 12.9. Sicuramente il mio prossimo iPad avrà quel polliciaggio. Oggigiorno si parla di smart working. Può l'iPad ottimizzare il vostro smart working? Assolutamente sì. E in particolar modo, secondo me, Apple ha nel suo arco una freccia meravigliosa, che è l'ecosistema. Veramente. Airdrop, faccio un video con iPhone, me lo mando sull'iPad, edito il video con LumaFusion, lo sposto direttamente sul MacBook, magari per avere un backup. Ecco, fantastico. Tutto senza filo e tutto con una velocità incredibile. Queste cose fanno la differenza. Quindi preferisco spendere, a mio avviso, 100€ in più, ma avere una macchina performante, rispetto a risparmiare 150€ in un anno e ritrovarmi dopo sei mesi a non aver comprato l'acquisto giusto, che avrebbe migliorato il mio lavoro. Dopo circa sei mesi di utilizzo di iPad, vi posso dire che è, secondo me, il miglior tablet di sempre, senza se e senza ma. Brava Apple per aver costruito attorno ai tuoi servizi, macchine del genere. Ragazzi, voglio sapere qua sotto, come sempre, la vostra opinione, le box dei commenti, è importantissima. E fatemi sapere se siete d'accordo o meno con me. Quindi iPad, ancora il miglior tablet di sempre. Anche per quest'oggi ovviamente è tutto e ci vediamo domani per un nuovo video. Ciao a tutti ragazzi!